è finita in questo fosso ridosso della postumia la corsa di un 27enne kossovaro residente a 90 di piave un volo di diversi metri dopo essere entrato in collisione con una volvo station wagon è stata una mattinata di allarme all'ingresso dell'abitato di san viaggio di callalta con i due mezzi che procedevano in direzione treviso lo scontro poco dopo le 10 e 30 quando la volvo cerca di svoltare a sinistra con la moto in fase di sorpasso l'impatto è fortissimo il ragazzo viene sbalzato dalla sella immediato l'allarme sul posto suem vigili del fuoco carabinieri con la polizia locale a supporto il 27enne cosciente viene portato al cafoncello è fuori pericolo mentre il traffico subisce pesanti rallentamenti sicurezza stradale in primo piano per l'intero ponte di ferragosto con un primo bilancio pesante da parte dei carabinieri quattro le denunce per guida in stato di ebrezza due per possesso di stupefacenti localizzate nella zona di vittorio veneto in particolare un uomo aveva con sé 70 grammi di hashish solo sulla treviso mare strada sulla quale è scattata la task force voluta dalla prefettura i militari dell'arma hanno ritirato una decina di patenti di guida per divieto di sorpasso velocità pericolosa e altre violazioni una ventina nel complesso le infrazioni al codice della strada